Si è corsa Le Mans il millesimo gran premio della storia del moto mondiale e la gara che si è corsa nel circuito versione corta della 24 ore di Le Mans ha regalato delle emozioni e dei grandi colpi di scena per quanto riguarda la classe regina, un'ecatombe mi verrebbe da dire più che una gara di moto mondiale che comunque accorcia la classifica in testa ovviamente nelle posizioni che contano. C'è tanto di cui parlare in questo nuovo episodio del Racing Podcast a partire dunque dalla gara della classe regina che vede partendo come al solito dalla fine la vittoria di Marco Bezzecchi davanti all'educati Pramac di Orge Martin e Johan Zarco che quindi fa podio in casa non prende però punti e Francesco Bagnaia per un incidente che è capitato nei primi giri di gara con l'apriglia di Maverick Vignales. Tanti incidenti, tante cadute in questa gara di Le Mans e appunto episodi che ovviamente faranno discutere e faranno parlare e noi parliamo di questo primo episodio della caduta di Bagnaia e Vignales siamo letteralmente nei primissimi giri di gara con Bagnaia che appunto cerca di andare a recuperare le posizioni che contano in quel momento. Miller è in testa davanti a Marc Marquez, c'è un attacco di Vignales all'interno di Bagnaia, Bagnaia non stacca ovviamente l'acceleratore e la stessa cosa ovviamente non la fa Vignales, questa curva in realtà poi porta a un cambio di direzione dove appunto sia Vignales sia Bagnaia per la verità non frenano e ovviamente non chiudono la porta, consapevoli probabilmente che nella loro idea erano uno solo e l'altro pure, quando in realtà ovviamente cozzano insieme e vanno letteralmente a finire per le terre, questa è di fatto la fine della dinamica dell'incidente con appunto in realtà Bagnaia e Vignales che si scontrano con Vignales all'interno e Bagnaia all'esterno con entrambe che appunto non chiudono il gas e finiscono entrambe per le terre con uno zero pesantissimo per entrambi, soprattutto per Bagnaia che di fatto si ritrova ad avere un solo punto di vantaggio adesso dopo Le Mans su Marco Bezzecchi vincitore della gara. Ora, premesso che io sono un tifoso della Ducati soprattutto per quanto riguarda il team ufficiale, si parlerà tantissimo di questo incidente, la mia opinione da tifoso Ducati è che comunque questo sia un incidente di corsa perché siamo nei primissimi giri di gara, parliamo del quarto in corso, è una curva molto particolare questa sezione da parte del circuito di Le Mans dove appunto, come dicevo prima, si porta a un rapido cambio di direzione e di conseguenza il pilota che all'interno tendenzialmente dovrebbe avere vantaggio. Dalle immagini qui non si vede ovviamente, se guardate a un bordo dell'elicottero si vede come Vignales e Bagnaia in realtà siano letteralmente affiancati, nessuno di due di fatto si accorge dell'altro perché Vignales dall'interno va verso l'esterno per preparare la traiettoria della curva successiva, Bagnaia dall'esterno non chiude il gas, i due cozzano e finiscono letteralmente per campi, è un incidente di gara, è molto pesante per Bagnaia, peraltro c'è stata anche una rissa tra Vignales e il pilota piemontese, alla fine poi i team principal di Ducati ufficiale e Aprilia ufficiale hanno rilasciato le cazioni di circostanza, ovviamente Aprilia spingeva per una penalizzazione di Bagnaia in quanto secondo loro responsabile, ma secondo me... In queste dinamiche si parla di incidente di corsa, così come incidente di corsa è anche quello che è capitato nello stesso giro, ma praticamente due curve più avanti, l'incidente di qui sopra è quello di Marini che di fatto perde la moto all'uscita della curva 2-3 dopo il rettenimento della partita di Le Mans, perde appunto il posteriore della sua Ducati Muni VR46 e va a centrare Alex Marquez, una caduta pericolosissima perché appunto la moto di Marini letteralmente rimane in pista con Alex Marquez, anche i piloti lo schivano praticamente per miracolo e ecco spiegata perché questa gara di Le Mans è stata di fatto un'ecatombe, quindi di fatto bastava arrivare alla bandiera scacchi per arrivare in zona punti, tutto questo però non toglie niente alla gara straordinaria che ha fatto Marco Bezzecchi, perché dopo appunto l'incidente con Bagnaia e Vignales, in realtà Bezzecchi era il pilota evidentemente che ne aveva di più in questo tratto di stagione, in questa pista in particolare di Le Mans, supera Marquez, supera Miller che poi però verrà a cadere anche lui e da lì in poi sarà di fatto una gara vinta per dispersione, Marco Bezzecchi dunque centra la seconda vittoria in stagione per quanto riguarda il team Muni VR46 e appunto con questi 25 punti si porta letteralmente a una sola lunghezza di distacco da Francesco Bagnaia perché appunto Bezzecchi va a quota 93 punti, Bagnaia appunto con lo zero va comunque a 94, sono fondamentali comunque i punti della gara sprint del sabato per Bezzecchi appunto la seconda vittoria in stagione e in carriera e per lui suona l'inno nazionale italiano che appunto è il canto degli italiani, è ancora una volta una tripletta Ducati, un po' come è stato evidentemente per il Gran Premo di Argentina, in quel caso a podio ci fuggono Johan Zarco e Alex Marquez, Johan Zarco è a podio ma appunto nel mezzo c'è Orge Martin che Aleman comunque si è trovato da dio perché ha vinto la gara sprint e fa la seconda posizione anche nella gara vera con comunque il primo podio della stagione per un pilota che veramente ha tantissimo talento e che comunque ha soltanto 14 punti di distacco da Bagnaia leader del mondiale, quindi anche Martin in qualche modo si va evidentemente a candidare per un posto importante nella lotta della classifica generale. Terzo appunto Esarco che appunto fa podio semplicemente a quali sono le triplette della Ducati, è successo appunto in Argentina, succede anche qui, qui però parliamo di gara di casa e Esarco comunque continua a essere il pilota al momento in attività con il maggior numero di podi in MotoGP senza ovviamente aver mai vinto, abbiamo avuto una marea di secondi e terzi posti ma l'alloro iridato o meglio l'alloro della vittoria manca per il podio francese che comunque a me piace veramente tanto. Questa dunque è la classifica per quanto riguarda i primi tre posti, è vero, è molto condizionata dalle cadute e ovviamente ci mettiamo dentro un Marquez che era in lotta per il podio ed è caduto evidentemente al rientro, anche se evidentemente il podio per la gara che aveva fatto era ampiamente meritato, al netto che comunque nella caduta di Marc Marquez abbiamo delle problematiche al posteriore evidentemente dovute al grande consumo delle gomme, va detto però che la Honda ha tolto Marquez che ha provato il traio Kalex anche in gara Aleman. Parliamo di After The Music, la classifica che invece poi vedremo da qui in poi sarà appunto collegata dalle cadute, avremo dei risultati veramente sensazionali ma comunque il premio di Raider del giorno va dato e il Raider del giorno non è Bezzecchi che ha vinto, non sono i due piloti del team Pramac ma è Augusto Fernandez Guerra che comunque dall'unico rookie dell'anno della MotoGP di fatto c'entra una straordinaria quarta posizione. È vero, è inflazionata verso l'alto per via dei motivi di qui sopra ma comunque se avessimo messo Marquez in gara e anche Vignales e Bagnaia parlavamo di una clamorosa top 10 per Augusto Fernandez Guerra che comunque ripeto è un pilota che non è l'ultimo arrivato, ha vinto il Mondiale Moto2 lo scorso anno è arrivato in una casa non propriamente competitiva che è il team Gas Gas, fatto sta che comunque una quarta posizione Aleman è il migliore stato della carriera per il neo pilota della MotoGP grandissima gara di Fernandez che già in qualificazione si era trovato benissimo e ha concretizzato in gara quindi Raider del giorno evidentemente Fernandez senza sé e senza ma. Quante posizioni invece per Alec Spargarò che comunque di fatto conferma la posizione occupata in Spagna e comunque prova a risollevare un inizio di stagione veramente deficitario con 1-0 e un nono e un quindicesimo posto Sesto invece per quanto riguarda la gara di Le Mans è stato Brad Binder che comunque si conferma una discreta realtà di questo Mondiale MotoGP al netto che questa è una gara in colore non che quella di Austin Texas ma comunque è la seconda peggiore della stagione. Per quanto riguarda invece le altre posizioni il settimo è Fabio Quartarò che appunto continua a navigare nelle retrovie della classifica il settimo posto è figlio delle cadute evidentemente davanti e sappiamo però che la Yamaha non sia la moto più connettiva dell'otto anzi probabilmente è una delle peggiori insieme alle altre Honda che non si chiamino Marc Marquez Ottava posizione per Fabio Di Gian Antonio che comunque fa un'altra prestazione in zona punti della quarta su 5 gare Nono Takahaki Nakagami con di fatto l'unica Honda rimasta in pista vista appunto i catombe anche della casa giapponese con 3 piloti su 4 ritirati. La top 10 la chiude comunque Franco Morbidelli appunto con una Yamaha sempre più disastrosa ma oramai sappiamo che la Yamaha ha tantissimi problemi soprattutto di motore e non riesce più a funzionare evidentemente come un tempo Tutti gli altri piazzamenti sono ovviamente a punti perché sono arrivati letteralmente 13 piloti al traguardo e di conseguenza qui li citiamo sono entrambi i piloti sostituti perché appunto tra infortuni vari evidentemente è un parco MotoGP in rinnovo undicesimo da Dilo Petrucci che ha fatto questa comparsata Aleman dopo che sta correndo il mondiale superbike con il team Ducati Barney Spark undicesimo comunque per un piatta che non correva in MotoGP comunque da un po' in maniera regolare parliamo di fatto di due stagioni. Il dodicesimo è Lorenzo Savadori che sarebbe il collaudatore dell'Apriglia che ha sostituito qui Michelo Rivera che ha saltato l'ennesima gara per infortunio comunque discreta prestazione per Savadori e l'ultimo in classifica è Jonas Folger con la seconda GasGas Jonas Folger che è tornato alle corse dopo aver avuto la sindrome di cui tanti abbiamo parlato negli anni precedenti non è più tornato ovviamente ai livelli per fare po' di MotoGP ma comunque è un pilota che alla fine fa il suo non dovrebbe puntare i punti con costanza ma bisogna ovviamente arrivare al traguardo e ovviamente qui parliamo di una buona tredicesima posizione anche in contumacia e tutte le altre cadute. MotoGP che insieme a tutte le altre categorie farà una grossa pausa perché adesso la categoria dei prototipi delle moto si sposterà in Italia ma al Mugello parleremo appunto ancora una volta di MotoGP nel weekend dall'11 al... comunque weekend dell'11-12 giugno se non ricordo male fatto sta che di fatto un mese di pausa per questa MotoGP che dunque viene appunto abbandonata temporaneamente con bagnaia sempre primo ma con soltanto un punto di vantaggio su Marco Bezzecchi vincitore parliamo adesso delle altre categorie in particolare Moto2, Moto3 e MotoE velocemente la Moto2 vede un alto trionfo italiano perché Tony Arbolino capitalizza una grandiosa gara in quel dileman sfrutta anche la caduta di Pedro Acosta con il quale era primo ex equo al termine dell'ultima gara di Spagna e dunque per Arbolino la seconda vittoria in stagione e anche per lui suona il canto degli italiani e adesso sono appunto 25 i punti che lo separano da Pedro Acosta ovviamente Acosta ha fatto zero con una caduta sanguinosa Arbolino ha massimizzato evidentemente quello che poteva e appunto è un vantaggio considerevole e molto importante per quello che di fatto è la nostra miglior freccia dei candidati per quanto riguarda il campionato del mondo Moto2 in seconda posizione abbiamo Filip Salac che è al secondo podio della carriera in Moto2 questa volta sull'asciutto Aleman grande gare evidentemente anche del pilota della Repubblica cieca del team Grisini che ha provato ad approfittare di un errore di Arbolino dove ha perso un secondo e ha provato a battere il pilota di Garbagnate di Manese ma non ce l'ha fatta alla fine l'italiano e il cieco arrivano a mezzo secondo allo sprint comunque per Salac è una grandissima grandissima prestazione e terzo è Alonso Lopez con il team Speed Up le Bosco Scuro di fatto possono contare sul 21 come pilota di punta di fatto è il terzo podio in quattro gare secondo il terzo posto consecutivo e 61 punti per Alonso Lopez nel mondiale Moto2 terzo evidentemente da solo se la Moto2 ha regalato una gara molto bella l'ha regalata in realtà anche la Moto3 con ancora una volta un leader che si conferma parliamo di Daniel Olgado pilota spagnolo del team KDM Tech 3 e per lui per la seconda volta in stagione un po' come Bezzecchi e Arbolino suona la marcia reale l'inno nazionale spagnolo Olgado comunque alla meglio di un manipolo di piloti 9 piloti si erano giocati la vittoria fino di fatto ad un giro dalla fine gruppo che poi in realtà va via sgranandosi e alla fine però comunque Olgado alla meglio e quindi questa è una grandissima vittoria perché anche in questo caso lo spagnolo capitalizza la creduta del suo più grande rivale in questo caso il brusignano Diogo Moreira e invece gli altri di fatto devono giocarsi le briciole in questo caso il podio in seconda posizione abbiamo Ayumu Sasaki che è il miglior pullman evidentemente in questa zona della Moto3 ma evidentemente non vince mai perché tre volte è partito dalla prima casella e non ha mai vinto a sto giro è la miglior prestazione evidentemente in questo senso secondo per il pilota giapponese terzo invece Raome Masia vincitore dell'anno scorso Aleman ma comunque pilota in rush in forma terzo podio consecutivo per il pilota con la carriera numero 5 del team Leopard terzo posto ancora una volta così come in Spagna e terzo podio consecutivo appunto dopo il secondo posto di Austin Texas per un mondiale Moto3 che non dico è indirizzato perché sappiamo che la Moto3 è sempre più un macello rispetto magari alle altre categorie ma comunque avere già dei punti di vantaggio in questo momento pari a 21 è un margine importante per Daniel Olgado ha debutato anche la MotoE in quel dileman che ovviamente da quest'anno ha cambiato format due gare al sabato per otto appuntamenti stagionali MotoE che appunto riprenderà l'ostilità al Mugello esattamente come le altre categorie alla fine abbiamo due gare per weekend 18 piloti come al solito protagonisti per una categoria che ha cambiato in realtà fornitore perché da Energica si è passato a Ducati e alla fine abbiamo due vincitori nobili di questa categoria perché la prima gara della stagione la vince Jordi Torres che è stato campione della MotoE in passato per lui suona la marcia reale la gara 1 viene completata nel podio da Hector Garzò che è appunto un altro pilota esperto di questa categoria e terzo posto invece per Randy Krumenacher il pilota svizzero ex campione del mondo della Supersport nel 2019 invece gara 2 arriva il riscatto di Matteo Ferrari che appunto è stato il primo campione del mondo della MotoE all'esordio nel 2019 e appunto si riscatta dopo aver fatto una caduta sanguinosa in gara 1 e vince comunque davanti ai soliti due Jordi Torres e Hector Garzò al termine di questa prima manche di gare di Le Mans Torres è primo a 45 punti Garzò è seconda a 36 e Matteo Ferrari con soltanto la vittoria l'attivo è comunque terzo a 25 c'è comunque da aprire un paio di parentesi la prima riguarda Luca Salvadori pilota che seguo con molta attenzione in questa categoria lo seguo su YouTube ma appunto chi dice che Salvadori è primo youtuber che è un pilota sbaglia Salvadori ha corso per anni nell'europeo Superstock 1000 che è una categoria di supporto alla Superbike con BMW ha fatto anni nel National del Civ l'ha fatto in realtà fino in tempi recenti e appunto quest'anno ha avuto l'opportunità di arrivare in MotoE decima posizione in gara 1 per Salvadori e tredicesima invece in gara 2 gara 1 della MotoE sta letteralmente come in MotoGP o negatombe invece la seconda ovviamente più regolare MotoE che vede comunque ancora una volta il ritorno di Maria Herrera che è una pilota che segue a maggior ragione con molta attenzione dodicesima e quindicesima posizione per la pilota spagnola nelle due gare di MotoE MotoE che appunto ricordiamo riprenderà l'ostilità al Mugello letteralmente tra un mese quindi una MotoGP che temporaneamente va in pausa primaverina in uno spring break come fossimo nel collage americano e appunto ritornerà appunto sul circuito toscano che appunto accoglierà gli eroi della MotoGP e delle altre categorie con questa classifica MotoGP che di fatto c'è completamente riaperta di fatto a un quarto di stagione con bagnaia sempre primo ma a un punto solo di distacco da Bezzecchi vincitore oggi aleman ci rivedremo all'incirca tra un paio di settimane settimana prossima non uscirà il podcast su Imola perché sarò impegnato nella mia disciplina ovvero lo slow pitch softball a un torneo SSC di Riccione e di conseguenza ci rivedremo tra fine maggio e inizio giugno nel frattempo il saluto da parte di Matthew Thorgard ci vediamo a un prossimo video